Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi. Quando compri online, hai il diritto di cambiare idea. L'autorità garante della concorrenza e del mercato tutela chi è insoddisfatto di un acquisto online. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it Campagna cura di autorità garante della concorrenza e del mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Grazie a tutti.